Un tiepido sole ha accolto stamani l'arrivo del feretro di Davide Sassoli nella Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli. Era avvolto nella bandiera europea nei cui ideali ha vissuto e creduto. Commossi i presenti tutti all'interno e all'esterno della Chiesa, in rappresentanza dell'Italia intera il presidente Mattarella per confortare i familiari del politico gentile e per bene. Composto il dolore della moglie Alessandra e dei figli Livia e Giulio. C'erano le più alte cariche dello Stato, compresi gli avversari politici, mai considerati nemici da Sassoli, e i rappresentanti delle istituzioni europee. Tangibile la tristezza della presidente della Commissione UE von der Leyen e del presidente del Consiglio Michel. Accanto alla Chiesa un maxischermo ha permesso di seguire il rito ai tanti che non sono riusciti ad entrare in basilica. Commuovente il ricordo dei giovani per la sua testimonianza di credente per la sua vita spesa in favore del bene. Oggi si è andato un esempio per me, un punto di riferimento politico e non solo. Io spero di far sempre i miei anzi gli insegnamenti che ci ha lasciato oggi David. Noi abbiamo portato la bandiera anche perché ha dedicato tutta la sua vita fino all'ultimo a questo sogno. Se ne va un pezzo importante di questa Europa, se ne va una persona che ci teneva e ha creduto nell'Europa sin dall'inizio. Ha speso comunque tutti gli ultimi vent'anni della sua vita a mostrare che si può fare una politica diversa, una politica basata non sulle urla ma sui contenuti, una politica basata sul rendere più forte l'Italia rendendo più forte l'Europa e non a scapito dei nostri concittadini europei. Se ne va un punto di riferimento soprattutto per noi giovani in questo periodo ma il sollievo in giornate come queste è che ci sono valori che non moriranno mai con le persone.